Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo ci sono gli sconti del Black Friday e come promesso vi porto un video a riguardo quindi come vedete dal video sono usciti gli sconti ve l'avevo già portati nell'altro video però sono diventati insomma attivi da oggi come al solito nella descrizione trovate il mio link affiliato Amazon visto che questa settimana, questo venerdì, cioè oggi c'è anche il Black Friday su Amazon andiamo subito con i veicoli LM87 2.915.000 è scontata e la troverete a metà prezzo quindi tutti i veicoli che vedete in questo video sono praticamente al 50-40% vale la pena comprarla questo qui ragazzi è un ottimo veicolo se volete un'auto insomma veloce e super io ve la consiglio SM722 come vedete 2.115.000 anche in questo caso sono costretto insomma a sconsigliarvela avevo già fatto un video riguardo quest'auto insomma ha deluso un po' tutti quindi non è un buon veicolo su cui spendere più di un milione e mezzo poi passiamo alla Torero X0 che è un ottimo veicolo e vi consiglio di acquistare quindi mi raccomando compratela perché è uno dei veicoli più veloci del gioco e quindi è assolutamente un must diciamo da avere su GTA Online insomma a metà prezzo ci sta passando a Warstock abbiamo l'Alconost come vedete acquista oppure prezzo speciale lo sbloccate il prezzo speciale facendo appunto il colpo a caio perico con questo veicolo qui insomma come veicolo di trasporto altrimenti la pagate 4 milioni e mezzo ovviamente vi sconsiglio di acquistarlo perché insomma è abbastanza inutile poi abbiamo il Cernobog in questo caso lo sbloccate se appunto fate le missioni del colpo dell'apocalisse con questo veicolo qui altrimenti lo pagate 3 milioni e 300 in questo caso ve lo sconsiglio perché è abbastanza inutile poi abbiamo il miglior veicolo del gioco almeno a mio avviso ovvero l'Oppressor MK2 sbloccate il prezzo speciale come vedete pagandolo 2 milioni e 9 con la metà prezzo insomma vi costa un milione e mezzo ragazzi qui è assolutamente da comprare se avete Oppressor fatte con i Full Deluxe o robe del genere non le vendete ovviamente questa settimana poi abbiamo l'Oppressor normale anche in questo caso date la priorità all'Oppressor MK2 però ovviamente se non ce l'avete vi consiglio di comprarvi anche l'Oppressor normale perché è veramente una gran moto quindi è veramente divertente da utilizzare e insomma ci potete fare tante cose quindi veicolo consigliato vi consiglio di comprarlo anche a 2 milioni e mezzo anche a un milione e mezzo insomma è indifferente poi abbiamo la Tore Ador anche in questo caso 3 milioni e 6 prezzo originale la troverete a metà prezzo quindi al 50% da comprare assolutamente sì uno dei veicoli migliori del gioco a mio avviso anche migliore della Stromberg quindi vi consiglio di prenderlo poi avete l'Avenger in questo caso al 50% considerando anche le modifiche da comprare secondo me ragazzi se avete già tutto sì se non avete già tutto insomma date priorità ad altro perché con l'Avenger almeno io insomma l'ho utilizzato veramente pochissimo su GTA Online non ci sono missioni particolari quindi ve lo sconsiglio Scrumjet 3 milioni e 4 da comprare a metà prezzo anche in questo caso ragazzi non è un veicolo fondamentale per carità bell'auto ha il razzo velocissima però insomma c'è di meglio per spostarsi sulla mappa come ad esempio l'Oppressor se non ce l'avete Ruiner 2000 sapete che insomma detesto questo veicolo costa uno sproposito 5 milioni e 7 anche 4 milioni e 3 sono troppi sarebbe l'auto super intelligente sembra bella in realtà è una schiversa al paracaduto insomma non serve veramente a nulla e vi sconsiglio di buttare tutti quei soldi in questo veicolo quindi mi raccomando non la comprate Deluxo in questo caso ragazzi sta a voi personalmente insomma la Deluxo è stata superata da parecchi veicoli però rimane un veicolo molto comodo perché può volare la potete comprare a meno di 4 milioni a meno di 3 milioni insomma vedete voi in base a che prezzo avete e compratela secondo me ci sta poi abbiamo Luxor Delux Swift Deluxo oppure il Luxor normale e lo Swift normale qui ragazzi neanche ve lo dico sono veicoli veramente inutili quindi non comprateli perché non ha senso insomma avere un aereo o in generale un elicottero su GTA Online insomma non sono prioritari soprattutto se dorati andate insomma all'aeroporto e lo rubate certo non troverete quello d'oro però è indifferente sono veramente veicoli inutili poi abbiamo lo yacht che diciamo che era inizialmente un veicolo inutile a metà prezzo considerando anche le modifiche che sono a metà prezzo spendrete circa 5 milioni se non erro 4 milioni e qualcosa ci potrebbe stare se avete comprato tutto e volete insomma delle missioni in più perché ci sono delle missioni che sono veramente carine pensavo facessero schifo in realtà ragazzi sono carine se le giocate quindi se vi state annoiando magari compratevi lo yacht e sbloccate le missioni del capitano che sono comunque missioni che potete fare magari con un amico oppure anche da soli quindi ragazzi fatemi sapere cosa comprerete in questo Black Friday su GTA Online se questo video ovviamente vi è stato utile lasciate un mi piace mi raccomando iscrivetevi visto che manca pochissimo all'aggiornamento di dicembre che a quanto pare uscirà il 13 non sappiamo ancora nulla e ovviamente appena Rockstar ci dirà qualcosa vi farò sapere tutto quanto con un video quindi mi raccomando spero che il video sia stato utile vi ringrazio dalla visione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo